Ciao da Roma, sono Riccardo dalla Svizzera. Sto andando a scuola e vi porto con me. Pronti? Avete cinque minuti per leggere almeno due volte il prestito. Buon appetito. Il frastuono blu è tropical. Tropical, 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 tropical. Perché ha fatto un reincarno. Ma questa è un'altra cosa delle raccolte. Sotto la nordica palli d'Europa, un poco più giù. Sì, la cucina è perfetta. Come il Gero Vital, altre stagioni, altra storia virtual nella scusante del monumentale. Ho fame? Sì, sì. Andiamoci a vallare? Sì, andiamoci a vallare. Va bene? Sì, andiamoci. Questo è il ristorante dei Latini. Vediamo cosa c'è di buono oggi. Oggi al ristorante abbiamo la lasagna al ragù, la pasta al pesto, gli spaghetti al lupo e la pasta al pesto. Posto qui. Perfetto ragazzi, arriverà tutto un breve. Grazie. L'arte ma ormai artificiale, tentativo glaciale. Ogni pomeriggio facciamo una cosa che possiamo fare al delitto. Per esempio, una passeggiata, un film, un seminario. Oggi facciamo una passeggiata da Piazza del Popolo a Piazza di Svagna. Questo è l'ufficio d'alloggi. Ciao Alessandra. Ciao Monica. Ciao Riccarda. Ciao Riccarda. Sono bravissimi. Grazie. Oggi ho diventato il mio computer. Vado al site del telecomputer e poi faccio i compiti. Incredibile. Siamo alla fine di ottobre e ancora possiamo studiare là fuori. Eh ragazzi, è ora della passeggiata. Andiamo? Sì andiamo. Sì andiamo. Certo. Piazza. Piazza Piazza